Oh ma salve, come state? Questo è il piccolo bench del gioco Icarus E' un bel gioco survival, molto pesante per quelli che hanno un pc lentissimo Io ad esempio sto facendo pochi fps, quindi sui 40 se do lo sguardo Cioè se guardo il cielo faccio 47 fps, se guardo il terreno faccio più di 50 fps E questi sono i dettagli medi con la texture un pochino alta Quindi quando ho avviato il gioco, il gioco era settato su grafica alta E facevo tra i 25 e i 30 fps, come se avessi attivato il retracing così a cazzo sulla 1660 super Quindi in questo caso ragazzi, se volete giocare con la 1660 super Vi consiglio di settarlo in questo modo Medium, medium, 2000 texture streaming E riguardo agli effetti shading e l'anti-aliasing Ragazzi io vi consiglio lo Ok? Basso Detto questo, mi godo il gioco perché devo costruirmi una casa Finalmente posso farcela dopo il livello 5 Sì, come potete vedere Sono arrivato al livello 5 Adesso posso costruirmi il pavimento, le mura Le mura ancora no E vabbè Io intanto prendo la pelle Prendo tutto Tutto sto schifo che ormai si è rotto Comincio a craftarmi Il coltello Ah, la petrol Ah, la zattera Ah, wow Questa cosa Proviamo, dai Ok Ok E questo Vediamo un po' nell'inventario Ok, perfetto Perfetto Sto aspettando che Faccia giorno Quindi consumo il stack Tutto La La zattera Oh, è la zattera questa Non ci ho capito Ma cos'è sta cosa? Mi sembra una zattera Oh, fermo, fermo Come il donna dell'ara Che cazzo significa? Non posso allontanarmi Devo fare una missione Ah Devo fare una missione Qui, vabbè Poi non so Che cazzo è sta cosa Non so che cos'è Che cos'è sta cosa Bedroll Io ho visto che è una zattera Vediamo Oh, in testa Acqua 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 Mi serve acqua Dov'è il cervo che muore? Mi serve acqua E poi prendo questa pelle Di questo Alce E l'ho ammazzata E l'ho ammazzata Dov'è? Eccolo Non di tutto Pure l'osso Perfetto Ora andiamo a bere Che ho sete Posso morire di sete Mi manca l'acqua Uffa C'è qualcosa da mangiare No Se no faccio una cosa Ok Oh Lo metto Ci butto Come si fa a divieta? Questo è un po' Spendendo Ah Guarda un po' Ok 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 Wow Bellissimo Il fuoco qua sopra Oh Chi è? Ah si Eh O si De lo so Ma dov'è il fuoco? Il processore sta salendo Vediamo se ho qualcosa A diventare Dov'è recuperare vita Aspetta aspetta Adesso vorrebbe Vorrebbe fare in caso Ok Ok Un po' di sedice Ho recuperato un po' di sete Andiamo 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 Oh L'acqua All'acqua qui nel terrasse l'acqua è abbastanza clean, l'acqua non si tratta di sbagliare possiamo farci la casetta? un bel posto ok, apriamo questa cosa, che cazzo è? no, quindi è il letto è un letto, ah è un letto mh, vieni che hai vinto sta piovendo, prendiamo ok, allora è un letto, qui sembrava una zattera oddio ok, ok sono stanco di stare all'aperto, ok, allora cibo, il falò devo rifarlo di nuovo, quindi a questo punto facciamo un altro lo metto qua lo piazzo la legna la metto qua e la carne ah sta piovendo, wow ah, finalmente un gioco fatto bene quando piove il falò si spegne buono, 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 buono allora oh ci siamo gente, ci siamo me ne servono una decina uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci oh che ciao che che Capito Una cosa così è fatta male Ma non va bene Togli 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 Non va bene Un'altra parte Un bel posto Un bel posto dove fai la casa Qua no Forse ho capito Forse ho capito Legna e fibra Forse ho capito a cosa serve Non lo so Vediamo un attimo Forse Eh Lo sapevo Sono i pali Anneccio Sono i pali Un'altra parte Un'altra parte Dopo livello 5 Poi che succede Livello 20 E quindi E quindi Questo come No Lasciamo aperto Finalmente Il giorno Il giorno So come fare Sta gas E' anche un bel posto Qui? Eh quanto sole E' 9 Cosa si può fare? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Vediamo un attimo un attimo Ah, che dolore, fastidio. Perché si vedono questi? Ah, ho capito. E' l'anti, il famosissimo anti-desync. Ok. Eh, devo fare la parete? Come faccio? Faccio bloccare ste cose Sto salendo di livello buono Faccio bloccare ste cose Faccio bloccare ste cose Faccio bloccare ste cose Tante buone cose Faccio bloccare ste cose Tanta fibra Faccio bloccare ste cose Faccio bloccare ste cose Faccio bloccare ste cose Faccio bloccare ste Faccio bloccare ste Faccio bloccare ste cose 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 Faccio bloccare ste cose